Pescatofenia Siamo a portare da Dante con gai e impegno da mande e mui e dei becchi. Io, Sionta d'Elba, ho la che vini a Fernanda Micheluzzi, in drenza guanche e massarie per i gioi di buona volontà, che voli metter alla letta per girare con la stella a annunciare la buona neve della venuta del Signore Dio sulla terra, fuori per la Cessis del Paese. Il mio guante è la Femines che va alla fascina o all'antica. e ho iniziato a viaggiare perché non ho iniziato via proprio perché non ho iniziato via, perché non ho iniziato via, perché non ho iniziato via, perché non ho iniziato via i remaggi. Questa è la stella che ha la storia, senza questo non ho iniziato, i remaggi che hanno iniziato con la nostra tradizione. Ai tempi era stato Ivano che li ha iniziato via proprio per i remaggi. ed era un momento che le ragite tutti per tutti. E il merito di Renato Morelli, conduta sia con Tia Vindedò, sono qui che portò in l'antica, la nostra tradizione. Un impegno che mette man con Sir Stephen e che va in l'antica fin da Pescatofegna. La ricetta è sempre, una tante a vegl'ora, una stella che viene da Roda e Caspar, ma il chiorre e baldassare, con guanche lusenche, ore e sumenti, che porta in l'antica una tradizione che non padeva passare il tempo, la tradizione dei tre rei. Cristo in pane pura, noi andiamo all'avventura. Altra tradizione vegl'ora e niente più da Duce ricordata, la chiesa che viene portata a Dante in via di Pescatofegna, che anche i bacchini si attestano a sumentare. Un rito vegl'ora, fatto per domanare la benedizione e la protezione del bestià, la sola risorsa che per centenze di anni abbia la gente di faccia. A sumentare l'era il Pere, che con la coppa di Agassenta e una piccola dassa avevano sei massifie. Un portò una fana sbuseda, piena di bronzes, e un portò l'incenso. Il Pescatofegna A parte della tradizione religiosa di Pescatofegna, si fai sempre più l'erga e c'è una tradizione laica della Befana. La veia stria che ti sempre più piace anche per via della presenza di ghiacci di fuori d'acqua, e fuori al Ness ai suoi decenni. Siamo una che stanno per fare la roba e scocchecarene e l'adertura molto giù della finestra del Comune e l'ha fatta scoprire in finta piazza di Sottegrava, o là che l'ha potuto dar fuori picchi e golosari a centenze picchi e meraviglii per la venuta dal cielo della veglia con la ciazza. E per il secondo anno di fila, allumener la nitte di via di pesca tofegna a Ciampedale, l'è stata la lume fiegola ma doccia di 200 lanterne di papiare molte e nauti verso il cielo. Un spettacolo in cui il mediamo pubblico è il protagonista. Duce, di fatti, ha potuto s'entrezzerna sia lanterna, dandese binera d'un te paes, a tenger del cielo e scur della nitte. Una bella scomenzativa che il groppo della helis di Ciampedale porta a Dante da stema al Comitato Manifestazione, con l'invito a vivere della corte la venuta del Signore Dio, che erano saldi che la lume daite di sé, che hanno abbonato per pesca e bie sentimenti. Pesca tofegna che ruo e che insieme alle lanterne la si portano verso il cielo, una orazione e un bel pensiero, che girano dal vento per raggiungere il cuore di Zacchei. Grazie a tutti!